Mantenere un legame con i tanti italiani che pur avendo scelto un altro paese nel quale vivere, spesso per motivi contingenti legati al lavoro, non hanno certo smesso di sentirsi italiani. Un vero e proprio sentimento di unità che rafforza lo spirito dei festeggiamenti del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. A dire il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Maria Abruzzese, è giunto in Scozia per un ciclo di incontri con i rappresentanti delle istituzioni politiche e culturali di Glasgow e di Edimburgo. Le comunità italiane all'estero, ha continuato il Presidente dell'Assemblea regionale del Lazio, sono una realtà fortemente significativa in tanti paesi in Europa e nel mondo. Prima tappa nella cittadina di Glasgow dove il Presidente Maria Abruzzese insieme ai sette sindaci della Valle di Comino è incontrato l'arcivesco Monsignor Joseph Mario Conti presso la Cattedrale Cattolica di San Andrew. Proprio qui è stato inaugurato l'italiano Cloist Garden, realizzato con l'aiuto del Consiglio regionale del Lazio e del Comune di Picinisco. La serata si è conclusa poi in un ristorante italiano affollato di imprenditori originari di Picinisco e dei paesi limitrofi, alla quale ha preso parte anche il Consul italiano in Scozia Mario Carfagnini, il Presidente del Comites Adriano De Marco. Nella mattinata successiva si è poi svolto l'incontro presso l'Università di Edimburgo per la presentazione della nuova edizione del Gadda Prize, un concorso letterario per ragazzi di tutta Italia. Questo premio che ha già raccolto il sostegno di molte istituzioni e anche nazionali, ha ricordato abruzzese, è un riconoscimento al talento dei nostri giovani. Per questo motivo anche il Consiglio regionale del Lazio ha voluto dare il proprio sostegno. I primi sei classificati verranno premiati con un soggiorno di una settimana presso questa prestigiosa accademia. Un'esperienza di arricchimento culturale e umano che vuole mantenere vivo questo legame che esiste già oggi tra Italia e Scozia. Il Presidente abruzzese è stato infine ricevuto presso gli uffici del Parlamento del deputato Mario Biaggi, un giovane italo scozzese delegato del primo ministro Salomon. Un incontro particolarmente cordiale, occasione per un confronto sul funzionamento dei rispettivi sistemi politici dei due paesi europei. Abbiamo incontrato l'arcivescovo, abbiamo incontrato gli imprenditori, abbiamo incontrato il rettore dell'università, abbiamo incontrato anche i rappresentanti del Parlamento scozzese per stabilire questi rapporti seri. Questi emigranti di circa 100-120 anni fa oggi vogliono ritornare nel nostro paese, nella nostra terra, nella nostra regione, ma nella nostra valle di Comino per reinvestire le ricchezze che hanno accumulato in questo territorio. È chiaro che vogliono da noi, dalle istituzioni, un rapporto serio, un rapporto concreto, un rapporto trasparente. Non chiedono soldi, non chiedono finanziamenti, vogliono solo la garanzia, la sicurezza di poter attivare questi investimenti senza trovare brutte sorprese, anche perché lo hanno detto con molta chiarezza, loro non si fidano del nostro sistema burocratico italiano, perché spesso hanno avuto delle sorprese negative. Allora oggi ho portato questo messaggio, un messaggio di apertura della nostra regione, anche la disponibilità della nostra Presidente Renata Polverini ad accogliere nella nostra regione, iniziative imprenditoriali molto serie. Allora si è aperto un canale interessante anche da un punto di vista culturale con l'Università, che è una delle università più importanti e più antiche della Scozia, con l'Università di Cassino, l'Università del Molise, l'Università anche di Milano per iniziare a rafforzare i premi culturali internazionali, proprio per così cementare ancora di più i rapporti, questi rapporti culturali che sono molto importanti per le nostre popolazioni. Allora portiamo a casa un protocollo serio, portiamo a casa un impegno serio con i nostri concittadini, perché così vengono e devono essere definiti, quei concittadini che cento anni fa partirono dal nostro territorio in cerca di fortuna in un Paese che hanno trovato grande ospitalità. Oggi vogliono da noi un'apertura di rientro, un'apertura di ritorno perché si sentono più italiani di noi, perché sono italiani e perché vogliono continuare ad essere ancora di più italiani.